dopo aver messo il sale sulla parte interiore della pelle facciamo essiccare per circa 4 5 giorni trascorsi i 5 giorni andiamo a togliere il sale dalla pelle usando un coltello raschiamo affinché tutte le impurità vadano via vedete raschiamo per bene dopo aver tolto il sale e raschiato con il coltello ecco come si presenta la pelle bella morbida adesso possiamo conservarla oppure procedere con la lavatura ma noi adesso la conserviamo così come